De Camerone, quinta giornata, nona novella. Federigo degli Alberighi ama e non è amato, e in cortesia spendendo si consuma e rimangli un sol falcone, il quale non avendo altro da mangiare alla sua donna venuta gli a casa, la qual ciò sapiendo, mutata d'animo, il prende per marito e fallo ricco. Era già di parlar restata a Filomena quando la reina, avendo veduto che più ognuno a dover dire se non Dioneo per lo suo privilegio, vera rimaso, con lieto viso disse «A me o mai appartiene di ragionare? E io, carissime donne, da una novella simile in parte alla precedente, il farò volentieri. Non a ciò solamente che conosciate quanto la vostra vaghezza possa nei cuor gentili, ma perché apprendiate d'essere voi medesime, dove si conviene, donatrici dei vostri guiderdoni, senza lasciarne sempre esser la fortuna guidatrice, la qual non discretamente, ma come si avviene, smoderatamente il più delle volte dona. Dovete adunque sapere che Coppo di Borghese Domenichi, il quale fu nella nostra città e forse ancora è «Uomo di grande e di reverende autorità, né di nostri, e per costume e per vertù, molto più che per nobiltà di sangue, chiarissimo e degno d'eterna fama?» Essendo già ad anni pieno, spesse volte delle cose passate, con suoi vicini e con altri, si dilettava di ragionare. «Da qualcosa egli meglio e con più ordine, e con maggior memoria e ornato parlare che altro uomo seppe fare». Era usato di dire, tra le altre sue belle cose, che in Firenze fu già un giovane chiamato Federigo di Messer Filippo Alberighi, in opera d'arma e in cortesia, pregiato sopra ogni altro donzel di Toscana, il quale, siccome il più dei gentili uomini avviene, d'una gentil donna chiamata Monna Giovanna, si innamorò, nei suoi tempi tenuta delle più belle donne e delle più leggiadre che in Firenze fossero. E a ciò che egli l'amor di lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava, faceva feste e donava, e il suo senza alcun ritegno spendeva. Ma ella, non meno onesta che bella, niente di queste cose per lei fatte né di colui si curava che le faceva. Spendendo adunque Federigo, oltre ogni suo potere, molto e niente acquistando, siccome di leggera diviene, le ricchezze mancarono, e esso rimase povero, senza altra cosa che un suo poderetto piccolo e se di rimasa, delle rendite del quale strettissimamente vivea, e oltre a questo un suo falcone dei migliori del mondo. Perché, amando più che mai, ne parendogli più potere essere il cittadino come desiderava, a Campi, laddove il suo poderetto era, se ne andò a stare. Quindi, quando poteva uccellando e senza alcuna persona richiedere, pazientemente la sua povertà comportava. Ora, avvenne un dì che essendo così Federigo divenuto allo stremo, che il marito di Monna Giovanna infermò, e veggendosi alla morte venire fece testamento, e essendo ricchissimo, in quello lasciò suo erede un suo figliuolo già grandicello, e appresso questo, avendo molto amata Monna Giovanna, lei, se avvenisse che il figliuolo senza erede legittimo morisse, suo erede substituì e morissi. Rimasa dunque vedova Monna Giovanna, come usanza è delle nostre donne, l'anno di state, con questo suo figliuolo se ne andava in contado, a una sua possessione assai vicina a quella di Federigo. Perché avvenne che questo gardoncello si incominciò a dimesticare con Federigo e a dilettarsi di uccelli e di cani. E avendo veduto molte volte il falcone di Federigo volare, e stranamente piacendogli, forte desiderava d'averlo, ma pure non s'attentava di domandarlo, veggendolo a lui esser cotanto caro. E così stando la cosa, avvenne che il gardoncello infermò. Di che la madre dolorosa molto, come colei che più non avea, e lui amava quanto più si poteva, tutto il dì standogli d'intorno, non restava di confortarlo, e spesse volte il domandava se alcuna cosa era la quale egli desiderasse, pregandolo gliele dicesse che per certo, se possibile fosse avere, procaccerebbe come l'avesse. Il giovanetto, udite molte volte queste proferte, disse, madre mia, se voi fate che io abbia il falcone di Federigo, io mi credo prestamente guerire. La donna, udendo questo, alquanto sopra se stette, e cominciò a pensare quello che far dovesse. Ella sapeva che Federigo lungamente l'aveva amata, nemmai da lei una sola guatatura aveva avuta, perché ella diceva, come manderò io o andrò a domandargli questo falcone, che è per quel che io oda il migliore che mai volasse, e oltre a ciò il mantiene il mondo. E come sarò io, sì sconoscente, che a un gentile uomo, al quale nieno altro di letto è più rimaso, io questo gli voglia torre. E in così fatto pensiero impacciata, come che ella fosse certissima ad averlo se il domandasse, senza sapere che dover dire, non rispondeva al figliolo, ma si stava. Ultimamente tanto la vinse l'amor del figliolo che ella seco dispose per contentarlo che che esser ne dovesse di non mandare, ma d'andare è la medesima per esso e di recargliele. E risposegli, figlio al mio confortati e pensa di guerire di forza, che io ti prometto che la prima cosa che io farò domattina io andrò per esso e sì il ti recherò. Di che il fanciullo lieto il di medesimo mostrò alcun miglioramento. La donna la mattina seguente presa un'altra donna in compagnia per modo di diporto se ne andò alla piccola casetta di Federigo e fecelo a dimandare. Egli, per ciò che non era tempo ne era stato a quei dì d'uccellare, era in un suo orto e faceva certi suoi lavorietti a conciare, il quale udendo che monna Giovanna il domandava alla porta, maravigliandosi forte, lieto la corse. la quale vedendo il venire con una donnesca piacevolezza levata agli si incontro avendola già Federigo reverentemente salutata disse Benestea Federigo e seguitò io son venuta a ristorarti dei danni li quali tu hai già avuti per me amandomi più che stato non ti sarebbe bisogno. Il ristoro è cotale che io intendo con questa mia compagna insieme desinartico dimesticamente stamane. Alla qual Federigo umilmente rispose Madonna nion danno mi ricorda mai avere ricevuto per voi ma tanto di bene che se io mai alcuna cosa valsi per lo vostro valore e per l'amore che portato voa divenne e per certo questa vostra liberale venuta ma è troppo più cara che non sarebbe se da capo mi fosse dato da spendere quanto per addietro ho già speso come che a povero oste siate venuto e così detto vergognosamente dentro alla sua casa la ricevette e di quella nel suo giardino la condusse e qui vi non avendo a cui farle tenere compagnia altrui disse Madonna poiché altri non c'è questa buona donna moglie di questo lavoratore vi terrà compagnia tanto che io vada a far metterla tavola egli con tutto che la sua povertà fosse estrema non si era ancor tanto avveduto quanto bisogno gli facea che egli avesse fuor d'ordine spese le sue ricchezze ma questa mattina niente cosa trovandosi di che potere onorar la donna per amor della quale gli già infiniti uomini onorati avea il fer a vedere e oltremodo angoscioso seco stesso maledicendo la sua fortuna come uomo che fuor di sé fosse or qua or là trascorrendo né denari né pegno trovandosi essendo l'ora tarda e il desidero grande di pure onorar da alcuna cosa la gentil donna e non volendo non che altrui ma il lavoratore suo stesso richiedere gli corse agli occhi il suo buon falcone il quale nella sua saletta vide sopra la stanga perché non avendo a che altro ricorrere presolo e trovato grasso pensò lui esser degna vivanda di cotaldonna e però senza più pensare tiratogli il collo a una sua fanticella il fe prestamente pelato e acconcio mettere in uno schedone e arrostir diligentemente e messa la tavola con tovaglie bianchissime delle quali alcuna ancora avea con lieto viso ritornò alla donna nel suo giardino e il desinare che per lui far si potea disse essere apparecchiato la onde la donna con la sua compagna elevatasi andarono a tavola e senza saper che si mangiassero insieme con Federigo il quale con somma fedele serviva mangiarono il buon falcone elevate da tavola e alquanto con piacevoli ragionamenti con lui dimorate parendo alla donna tempo di dire quello perché andata era così benignamente verso Federigo cominciò a parlare Federigo ricordandoti tu della tua preterita vita e della mia onestà la quale per avventura tu hai reputata durezza e crudeltà io non dubito punto che tu non ti debbi maravigliare della mia presunzione sentendo quello perché principalmente qui venuta sono ma se figlioli avessi o avessi avuti per i quali potessi conoscere di quanta forza sia l'amor che lor si porta mi parrebbe esser certa che in parte mi avresti per scusata ma come che tu non abbia io che no uno non posso però le leggi comuni dell'altra madre fuggire le cui forze seguir convenendomi mi conviene oltre al piacer mio e oltre ogni convenevolezza e dovere chiederti un dono il quale io so che sommamente te caro e hai ragione perciò che nion altro di letto nion altro di porto nion ha consolazione lasciata tala tua estrema fortuna e questo dono è il falcontuo del quale il fanciul mio è si forte invaghito che se io non gliele porto io temo che egli non aggravi tanto nella infermità la quale ha che poi ne segua cosa per la quale io il perda e perciò ti priego non per l'amore che tu mi porti al quale tu di niente sei tenuto ma per la tua nobiltà la quale in usar cortesia sei maggiore che in alcun altro mostrata che ti debba piacere di donarlo a ciò che io per questo dono possa dire d'aver ritenuto in vita il mio figliolo e per quello averlo di sempre obbligato Federico udendo ciò che la donna domandava e sentendo che servì non nella potea per ciò che mangiare gliele avea dato cominciò in presenza di lei a piagnere anziché alcuna parola risponder potesse il qual pianto la donna prima credette che da dolore di dover da sé di partire il buon falcone divenisse più che da altro e quasi fu per dire che non volesse ma pur sostenutasi aspettò dopo il pianto la risposta di Federico il qual così disse madonna poscia che dio piacque che io in voi ponessi il mio amore in assai cose m'ho reputata la fortuna contraria e son me di lei do luto ma tutte sono state leggeri a rispetto di quello che ella mi fa al presente di che io mai pace con lei aver non debbo pensando che voi qui alla mia povera casa venuta siete dove mentre che ricca fu venir non degnaste e da me un picciol dono vogliate e l'abbiasi fatto che io donar non vi possa e perché questo esser non possa vi dirò brevemente come io diche voi la vostra mercè meco desinar volavate avendo riguardo alla vostra eccellenza e al vostro valore reputai degna e convenevole cosa che con più cara vivanda secondo la mia possibilità io vi dovessi onorare che con quelle che generalmente per le altre persone susano perché ricordandomi del falcon che mi domandate e della sua bontà degno cibo da voi reputai e questa mattina arrostito l'avete avuto in sul tagliere il quale io per ottimamente allogato avea ma vedendo ora che in altra maniera il desideravate messi granduolo che servire non ve ne posso che mai pace non me ne credo dare e questo detto le penne e piedi e il becco le fe in testimonianza di ciò gittare avanti la qualcosa la donna vedendo e udendo prima il biasimò da aver per dar mangiare una femmina ucciso un tal falcone e poi la grandezza dell'animo suo la quale la povertà non avea potuto ne potea rintuzzare molto se come desima commendò poi rimasa fuor della speranza ad avere il falcone e per quello della salute del figliolo entrata in forse tutta malinconosa si dipartì e tornossi al figliolo il quale o per malinconia che il falcone aver non potea o per l'anfermità che pure a ciò il dovesse aver condotto non trapassare molti giorni che egli con grandissimo dolor della madre di questa vita passò la quale poiché piena di lacrime ed amaritudine fu stata alquanto essendo rimasa ricchissima e ancora giovane più volte fu da fratelli costretta a rimaritarsi la quale come che voluto non avesse pur veggendosi infestare ricordatasi del valore di federigo e della sua magnificenza ultima cioè d'aver ucciso un così fatto falcone per onorarla disse a fratelli io volentieri quando vi piacesse mi starei ma se a voi pur piace che io marito prenda per certo io non ne prenderò mai alcuno altro se io non ho federigo degli alberighi alla quale i fratelli facendosi beffe di lei dissero sciocca che è ciò che tu di come vuoi tu lui che non ha cosa del mondo a quali ella rispose fratelli miei io so bene che così è come voi dite ma io voglio avanti uomo che abbia bisogno di ricchezza che ricchezza che abbia bisogno d'uomo li fratelli udendo l'animo di lei e conoscendo federigo da molto quantunque povero fosse sì come ella volle lei con tutte le sue ricchezze gli donarono il quale così fatta donna e cui egli cotanto amata avea per moglie vedendosi e oltre a ciò ricchissimo in letizia con lei miglior massaio fatto terminò gli anni suoi tinham n in ああ ah o o ah 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 Grazie a tutti.